L'Arabia Saudita Nonostante affronta estreme sfide ambientali, questo regno ha intrapreso una trasformazione che lascia il mondo sbalordito. Una terra dove il sole estivo poteva bruciare le sabbie a temperature superiori a 110 gradi Fahrenheit, eppure, in mezzo a questa estensione arida, l'Arabia Saudita sta plasmando una narrazione diversa, un racconto di innovazione, resilienza e meraviglie agricole e miracoli. Mi raccomando, arriva alla fine del video, perché nel finale abbiamo una sorpresa per te che potrebbe cambiare la tua vita per sempre. Nel cuore della penisola arabica, dove le piogge erano solo un sussurro, l'Arabia Saudita aveva tessuto un arazzo di verde sullo sfondo delle infinite dune di sabbia. Ciò che ha attirato l'attenzione del mondo non è stato solo il forte contrasto, ma anche la storia che c'era dietro. Il viaggio è iniziato con una domanda. Come fa una nazione con appena 4 pollici di pioggia all'anno a sostenere l'agricoltura? La risposta risiedeva nell'ingegnosità del suo popolo e nell'adozione della tecnologia moderna. Attraverso innovative tecniche agricole e l'adozione di tecnologie all'avanguardia, l'Arabia Saudita ha trasformato vaste distese di deserto in fertili campi coltivabili. Questo non era solo una questione di sopravvivenza. Si trattava di prosperare contro ogni previsione. Con politiche governative strategiche a guidare la strada e la partecipazione attiva del settore privato, il settore agricolo dell'Arabia Saudita è fiorito. Il Ministero dell'Agricoltura ha giocato un ruolo fondamentale, supervisionando lo sviluppo e attuando politiche a favore di pratiche sostenibili. Ma ciò che ha veramente contraddistinto l'Arabia Saudita è stato il suo investimento nella ricerca e nella tecnologia. Dai prestiti senza interessi ai sussidi per forniture essenziali, il Governo ha fornito un sostegno vitale agli agricoltori, aprendo la strada per una crescita notevole del settore. L'acqua, linfa vitale dell'agricoltura, era una merce preziosa in questo regno del deserto. Con soli 89 metri cubi disponibili per persona all'anno, la scarsità d'acqua era imminente. Eppure, l'Arabia Saudita aveva padroneggiato l'arte della gestione dell'acqua come nessun altro. Le dighe sfruttano le preziose acque di piena. Gii acquiferi sotterranei vengono sfruttati attraverso pozzi profondi e le centrali di dissalazione trasformavano l'acqua di mare in una fonte vitale per l'uso urbano e industriale. Ma forse il risultato più notevole era il riciclo delle acque reflue per l'irrigazione, garantendo che ogni goccia venisse utilizzata efficientemente. Questo approccio strategico non solo ha sostenuto l'agricoltura, ma ne ha anche ampliato l'area di influenza. Da meno di 400.000 acri di terreno coltivato nel 1967 a milioni di acri nel ventunesimo secolo, l'Arabia Saudita aveva ridefinito i confini della possibilità. Ma la storia non finisce qui. Con il crescere delle preoccupazioni per la scarsità d'acqua e i cambiamenti climatici, l'Arabia Saudita ha intrapreso un'iniziativa audace. L'iniziativa verde saudita. Con piani per piantare 450 milioni di alberi, il Regno mirava a trasformare la sua percezione da una terra di deserti a una terra di verde. Le aree urbane sono diventate punti focali, con parchi e spazi verdi integrati nei paesaggi urbani per combattere il calore urbano e migliorare la qualità dell'aria. Nelle regioni rurali, gli sforzi si sono concentrati sulla lotta alla desertificazione e sulla conservazione degli ecosistemi unici. Attraverso sforzi collaborativi e un impegno per la conservazione, l'Arabia Saudita ha salvaguardato la sua biodiversità mentre lottava per un futuro più verde e sostenibile. Cosa riserva il futuro alle meraviglie agricole dell'Arabia Saudita? Con sfide persistenti e paesaggi in evoluzione, il Regno rimane impegnato nell'innovazione e nella sostenibilità. Prima di continuare, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti adesso ed attiva anche la campanella. Se desideri rimanere ancora più informato, abbiamo un gruppo Telegram in cui forniamo notizie in tempo reale. Trovi il link per accedere in basso nella descrizione. Gli avanzamenti tecnologici continuano a guidare il progresso, dalle immagini satellitari ai sistemi di irrigazione intelligenti. Ma la vera misura del successo risiede non solo nella potenza tecnologica, ma nella capacità di bilanciare il progresso con la conservazione. Mentre l'Arabia Saudita guarda verso l'orizzonte, lo fa con un senso di scopo. Sostenere il lascito delle sue meraviglie agricole per le generazioni future. Nei libri di storia agricola dell'Arabia Saudita, le radici dell'innovazione sono profonde. Secoli fa, in mezzo ai vasti deserti e oasi, antiche tecniche agricole sostenevano le comunità. Proiettati nel futuro, il regno ha abbracciato una nuova era di innovazione agricola. Fu negli anni settanta che l'Arabia Saudita vide una svolta epocale nel suo panorama agricolo. I piani ambiziosi del governo, uniti agli investimenti nelle infrastrutture e nell'istruzione, hanno gettato le basi per una rivoluzione. Ricerca e istruzione divennero primarie, mentre il regno cercava di svelare i segreti dell'agricoltura sostenibile nel deserto. Con determinazione e lungimiranza, l'Arabia Saudita ha coltivato una cultura dell'innovazione che continua a spingere avanti il suo settore agricolo. Dalle tecnologie agricole avanzate alla ricerca pionieristica, il regno si trova all'avanguardia dell'innovazione agricola. Il deserto, con il suo terreno aspro e il clima implacabile, rappresentava una sfida formidabile per l'agricoltura. Eppure, l'Arabia Saudita osò sognare di trasformare questo paesaggio desolato in un'oasi fertile. Attraverso una combinazione di saggezza antica e tecnologia moderna, il regno intraprese un viaggio di trasformazione. Pozzi profondi attingevano agli acquiferi sotterranei, mentre le centrali di dissalazione convertivano l'acqua di mare in una risorsa preziosa. Le dighe sfruttavano il potere delle acque di piena e tecniche di irrigazione innovative garantivano che ogni goccia fosse utilizzata efficientemente. Contro ogni previsione, l'Arabia Saudita addomesticò il deserto, dando vita a terre sterili e ridefinendo i confini della possibilità. Fu un trionfo dell'ingegno e della resilienza umani, una testimonianza dello spirito indomito del regno. Nel cuore della penisola arabica, tra le sabbie scintillanti e i cieli infiniti, l'Arabia Saudita ha nutrito una nazione con i frutti del suo lavoro. Dai campi di grano ai boschi di palme da dattero, la ricchezza agricola del regno ha nutrito gli affamati e sostenuto le masse. Ma non si trattava solo di nutrire la nazione, si trattava di favorire l'autosufficienza e la sicurezza. Attraverso una pianificazione strategica e investimenti, l'Arabia Saudita è diventata un faro di indipendenza agricola, erigendosi alta in un mondo di incertezza. Dai modesti datteri ai maestosi campi di grano, ogni cultura testimoniava l'impegno del regno nel nutrire il suo popolo. Fu una testimonianza del potere dell'agricoltura nell'elevare le comunità e trasformare le vite. Mentre il sole tramonta su un altro giorno nel regno, l'Arabia Saudita guarda verso un domani sostenibile. Con lo spettro dei cambiamenti climatici che si avvicina e le risorse idriche che diminuiscono, il regno rimane saldo nel suo impegno per la sostenibilità. Dalle iniziative verdi, agli sforzi di conservazione, l'Arabia Saudita traccia una rotta verso un futuro più verde e sostenibile. È un viaggio pieno di sfide, ma uno che il regno abbraccia a braccia aperte. Perché nel cuore del deserto, tra le sabbie del tempo, le meraviglie agricole dell'Arabia Saudita si ergono come testimonianza dell'indomito spirito umano. Con l'innovazione come bussola e la sostenibilità come stella guida, il regno apre la strada verso un domani più luminoso. Prima di salutarci, c'è un'altra questione che dovrebbe attirare la tua attenzione. A Gerusalemme è avvenuto un miracolo incredibile davanti a migliaia di fedeli e abbiamo preparato un video per spiegarti tutto ciò. Clicca nel video sullo schermo per scoprirlo. È davvero incredibile!